La scuola salernitana in questo momento è un punto delicato della situazione pandemica. Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un incremento importante di classi in quarantena. In regione Campania dai dati rilevati dalle aziende sanitarie suppositivi registrati in età scolastica nella fascia d'età 0-13 anni nella settimana appena trascorsa dall'11 al 17 gennaio si registrano 25.745 casi con 7.442 contagi in fascia d'età 0-5 anni 10.881 dai 6 ai 10 anni 7.422 tra gli 11 e i 13 anni. Sono i dati diffusi dall'unità di crisi della regione Campania che in una nota sottolinea l'opportunità di inviare questi dati al ministero della salute e per sua opportuna conoscenza al ministro dell'istruzione Bianchi. C'è una crescita importante di casi positivi nella settimana dal 10 al 16 gennaio solo in provincia di Salerno si sono registrati 24.100 casi covid a Salerno città circa 3.000 positivi ma allo stesso tempo cresce anche il numero di persone vaccinate anche soprattutto nella fascia sotto i 18 anni. A dirlo questa mattina ai nostri microfoni è stato il direttore dell'area igiene e sanità pubblica responsabile vaccini covid dell'asile di Salerno che ha annunciato un'accelerata delle sedute vaccinali proprio per i ragazzi ed un potenziamento dell'USCA in via capitolo San Matteo che aumenta la capacità di fare i tamponi anche grazie alla collaborazione dei militari dell'esercito italiano. La scuola salernitana come il resto della provincia in questo momento è un punto delicato di situazione. Noi abbiamo avuto negli ultimi giorni anche nella città di Salerno un incremento importante di classi poste in quarantena. Diciamo che una settimana fa erano 6 o 7 adesso sono più di 30, 32, 33. c'è questa crescita importante di classi in quarantena dove comunque si creano situazioni di positività. A fianco a questo però noi abbiamo fatto già 10 mila vaccini ai ragazzini da 11 a 5 anni. Gli iscritti in piattaforma continuano a crescere per fortuna però ormai siamo ben oltre il 50 per cento il 60 per cento degli iscritti in piattaforma per le sedute 11 5 anni. Ne abbiamo ampliate sia a via sociale e sempre per dare una mano alla scuola stiamo organizzando, ieri sono partiti, continueranno in questa settimana, domenica c'è stato un evento specifico, anche delle sedute vaccinali specifiche per ragazzi da 12 a 18. Sto rinforzando anche l'attività delle usche sul territorio. Da stamattina è perfettamente funzionante di nuovo il centro drive-in lì alla Calata San Matteo con i militari per cui aumenteremo la capacità di fare i tamponi drive-in. Sottolineo con molta importanza che i tamponi in questo momento sono perfettamente equiparati, tamponi antigenici e tamponi molecolari. Non è necessario nel modo più assoluto ripetere dopo aver fatto il primo tampone antigenico andare a fare il molecolare, casomai prima in un laboratore privato, poi presso fare le file, presso le usca che fanno il drive-in. Il primo tampone che viene fatto obbligatoriamente deve essere registrato in piattaforma e da quel momento quel tampone è elemento sufficiente per fare casi di positività e a secondo delle scadenze previste dall'attuale situazione di gestione di isolamento e quarantena a 7, 10 giorni, a 5 e quando si ripete l'altro tampone anche antigenico, anche solo antigenico, meccanismi di tracciamento, di contatto, di chiusura situazioni di guarigione sono perfettamente attivi e fanno funzionare perfettamente il green pass. Dottore, proprio ieri c'è stato un presidio qui dinanzi all'asala, si chiede l'attivazione di un'altra usca, ma è anche di ieri la notizia di un caso, un esempio magari preso a campione sulla popolazione salernitana, di difficoltà nell'assistenza domiciliare da parte dell'usca. La città di Salerno non è lontana dai nostri pensieri, è la comunità che ha avuto in assoluto il maggior numero di tamponi, sia il maggior numero di vaccini, sia prime dosi, sia seconde dosi, sia terze dosi. Noi abbiamo una distribuzione di vaccini su tutto il territorio che si avvicina ormai, avevo qui il dato complessivo, al 44% complessivo sulla popolazione generale, abbiamo fatto 450 mila dosi di terze dosi, se considerate che sono 740 mila le seconde dosi, cioè quelle propedeviche, siamo ben oltre il 50% di persone che hanno avuto la terza dose, la dose boost. L'usca per le scuole cosa serve? A fare che cosa? Io vorrei capire che significa l'usca per le scuole, dobbiamo andare a visitare i bambini nelle scuole? Dobbiamo mandare i bambini asintomatici presso le usca per fare lo screening? Non mi pare che queste siano situazioni compatibili con l'attuale contesto. È vero, un'altra situazione che nasconde questa ipotesi di usca delle scuole. L'ultimo decreto prevede che nei casi di sorveglianza e di possibilità nelle scuole i tamponi devono essere effettuati gratuitamente presso le farmacie, su prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri. Se si vuole saltare questo passaggio pensando che l'usca dedicato semplifichi o agili questa indicazione, mi pare che è un uso improprio di quella che è la funzionalità dell'usca.